Siamo alla vigilia dell'atteso evento ciclistico della Tirreno Adriatico, la Corsa dei Due Mari che arriva nella provincia di Pesor Urbino attraversata per 206 chilometri, partenza ad Apecchio domani con arrivo a Carpegna. A Carpegna il meglio della tappa con il Cippo, con il Monte Carpegna da attraversare prima dell'arrivo al Palazzo dei Principi. Il traguardo sarà anche accompagnato dalla storia del ciclismo in mostra, come le bici che vedete qua al mio fianco, questa appartenuta a Marco Pantani, la bicicletta della Mercatone 1 del 1998, un anno d'oro per il Pirata, assieme a questa anche le bici di Artunghi e Siboni, Gregari di Marco Pantani, bici che al momento sono esposti qua alla Italian Legend Bicycle di Dario Corsi, la collezione pesarese che da domani si trasferirà per questo grande evento al Palazzo dei Principi di Carpegna, potrà essere visitata insieme alla grande mostra fotografica dedicata ai grandi ciclisti che sono transitati a Carpegna in questi decenni. Carpegna, il Comune di Carpegna ha voluto ricordare insieme al Comune di Pesaro, Pantani soprattutto, e abbiamo voluto portare tre biciclette dalla Mercatone 1 del 1998, tra cui la bicicletta originale di Marco Pantani. In quell'anno, ci ricordiamo tutti, vinse il Giro e il Tour. E non è casuale l'abbinamento, cioè era questo uno dei terreni d'allenamento prediletti di Marco Pantani? Certo, Marco si allenava sulle nostre montagne dell'entroterra e diceva sempre che bastavano per vincere il Giro e il Tour, quindi penso che siano abbastanza dure. Alle sue spalle il pannello di presentazione di questo evento a Carpegna ci ricorda anche che Pesaro è candidata finalista a Capitale della Cultura. La bicicletta rientra appieno in questo discorso culturale. Certo, non potevamo perdere questo evento, la Tirreno Adriatico a Carpegna, come anche evento culturale. Ci saranno tanti tifosi sulla montagna a vedere i corridori che scalleranno due volte il cippo. Pesaro cerca in questo mese di diventare vincitrice della Capitale della Cultura 2024 e la bicicletta a Pesaro, la città della bici, non poteva mancare. Devo dire che la Tirreno Adriatico quest'anno ha veramente un'importanza molto elevata, soprattutto per il nostro territorio, una grandissima occasione per promuovere Pesaro, ma tutte le marche. Io devo dire che voglio ringraziare anche Dario Corsi, che è una persona stupenda, che nel corso di una vita è riuscito a raccogliere tantissime biciclette, soprattutto biciclette di grandi campioni. Non potevamo perdere questa occasione, gli abbiamo chiesto di portare una parte della sua collezione direttamente dal Palazzo dei Principi a Carpegna. Domani quindi c'è la tappa e ha voluto anche portare, omaggiare anche Marco Pantani, portando una delle sue biciclette, quella con la quale ha vinto un sacco di gare. Quindi lo voglio ringraziare perché mette a disposizione un patrimonio, lo rende visibile e anche perché è la prima parte, è anche un'opportunità per ricordare che Pesaro è la città della bicicletta e che verrà fatto un museo dedicato alla bicicletta e sarà sicuramente basato sulla collezione di Dario.